Buongiorno, oggi il libro di cui vi parlerò è questo qua, Tutti i racconti di Abraham Yushua. Questo libro raccoglie tutti i racconti che Yushua ha scritto dal 57 fino al 74, poi non ha scritto più racconti e negli anni immediatamente successivi ha cominciato a pubblicare i suoi romanzi. L'amante è stato il primo che ha pubblicato, Il divorzio tardivo eccetera eccetera che noi conosciamo e abbiamo già letto. Quanti racconti sono? Mi stavo già dimenticando di quanti racconti sono. Sono 12 racconti pubblicati in ordine di tempo. Perché è interessante questo libro? Perché piace questo libro almeno a me? Perché si ha la possibilità di capire, intuire, l'evolversi della poetica, della scrittura di Yushua. I primi racconti sono surrealisti direi, sono inverosimili, ambientati in zone che potrebbero essere in qualsiasi punto della terra per poi progressivamente in qualche modo trovare le proprie radici in Israele. Già dal quarto racconto, nel 60, questo quarto racconto avviene, tutto avviene in un kibbutz e quindi siamo già in Israele, sempre più avanti. Quindi c'è questa crescita. Poi per esempio gli arabi, la presenza del popolo arabo che nel primo romanzo è in qualche modo importante, presente, assoluta, se pensate all'amante, cresce gradualmente. All'inizio, come dicevo, i primi due e tre potrebbero essere ambientati dappertutto, però anche dopo, in alcuni punti dei primi parla il nemico, il nemico può essere chiunque. Dopo compaiono gli arabi, nel senso che ci sono le persone arabe che appunto poi saranno presenti in molti, se non tutti, anzi in molti romanzi di Yushua. E poi un'altra cosa interessante di questi romanzi, sono sempre più lunghi. Allora i primi, il numero delle pagine dei primi, me ne sono segnate di 16, 14, 20, 24, 28, questi sono i numeri. Le ultime, la seconda parte dei romanzi, abbiamo romanzi di 78, 60, 54, 40 eccetera. Quindi sono aumentati in lunghezza. Le trame si sono fatte meno, vorrei dire, sconclusionate, ma insomma non è la parola giusta forse, più realistiche, più veritiere. Quindi sono racconti di situazioni possibili, verosimili e sempre di più emergono alcune modalità di scrittura interessanti. Per esempio l'analisi psicologica dei personaggi viene progressivamente resa più fine, più profondità, e insomma cresce. Vediamo la crescita di uno scrittore, di un importantissimo scrittore che poi produrrà dei bellissimi romanzi, bellissimi e interessantissimi romanzi. Ovviamente non vi racconto la trama dei vari racconti, perché soltanto piccolini, quindi inutile che vi racconti tutto quanto. Alcuni sono... c'è un po' di ironia in alcuni, non proprio tantissime, però c'è anche un aspetto per certe volte un po' leggero di certi romanzi, non sono tutti i primi, scusa per certi racconti, voglio dire. E c'è questo aspetto insomma a volte un po' leggero. Alla fine del libro c'è una postfazione di Yoshua stesso, molto interessante, perché lui l'ha scritta nel 99, quando è stato pubblicato in Italia questo libro, dove racconta qualcosina, scusate, è una postfazione dedicata ai lettori italiani, perché proprio in occasione della pubblicazione in Italia di questi racconti, tutti mesi assieme, dove scriveva qualcosina anche di se stesso, nella sua evoluzione. Qualche racconto è stato, non so se prima o dopo a dire la verità, pubblicato in modo autonomo, a dire la verità quando me ne sono accorto mi ha dato un po' fastidio, perché quando ho letto il racconto in modo autonomo non c'era scritto che era stato già pubblicato, insomma sembrava un'operazione editoriale della casa editrice che non mi è piaciuta, ma non ha importanza. Bene, questa è l'edizione che io non so se ce ne sono nuove edizioni, questa che io l'ho pagata, vabbè, 19.500 lire, quindi abbastanza vecchia. E niente, io vi consiglio di leggere, perché proprio se state cominciando ad apprezzare Yoshua, o se già apprezzate Yoshua, questo vi dà una mano per comprendere ancora di più la poetica di questo autore. Quindi tutti i racconti e in audio, Abraham Yoshua. Buona lettura.